E' arrivata a Ceglie Messapica nella giornata di martedì, in compagnia della sua famiglia e del ministro cognato Lollobrigida, poi mascherata da un paio di grandi occhiali da sole con lenti scure e aggirato in lungo e largo la Valle d'Itria, per essere avvistata prima in una drogheria del Fasanese, come una normale cliente, e poi in una masseria di Polignano a mare per una panzerottata. Al momento non esistono foto o prove del tour segreto di Giorgio Meloni in Puglia, eppure la toccata e fuga c'è stata, con base nel brindisino, in una masseria semplice e riservata tra gli ulivi di Ceglie Messapica. La premier è ripartita nella mattinata di venerdì, destinazione Roma, per il vertice con le opposizioni sul salario minimo. Eppure, nonostante il gran segreto mantenuto da collaboratori e parlamentari del territorio, la notizia è stata confermata e verificata, antipasto di vacanze pugliesi, quindi per Giorgia. Galeotto fu il salottino della piazza di Ceglie Messapica lo scorso anno, poi la visita a Borgognazzi, hub predestinato per il G7. Quindi, che all'amore non si comanda, il to che fuggi in Valle d'Itria, lontana da Lussi, sfarso in mondanità alla ricerca pur fugace di relax e affetti. Tra i trugli e gli ulivi, tra le colline e il buon cibo, ci tornerà presto di nuovo da queste parti la premier Giorgia Meloni.